14 nuove guarigioni sono state registrate nella giornata di ieri a Torre del Greco, certificati anche 9 casi di positività al Covid-19 in isolamento domiciliare. Muta dunque il bilancio dei contagi nella città, sono 317 gli attuali positivi, di cui 27 ricoverati e 290 posti in isolamento domiciliare, 2420 guariti e 79 deceduti. Sono 58 i cittadini di Castellammare e di Stabia risultati positivi al Covid-19 nelle giornate del 12 e del 13 gennaio 2021. 30 di essi presentano sintomi lievi della malattia. Sono stati lavorati complessivamente 276 tamponi. I guariti certificati nello stesso periodo sono 46, tra di essi una bambina di 5 mesi e 6 ragazzi tra gli 11 ed i 15 anni. Sono 3047 i contagiati totali dall'inizio della pandemia a Castellammare, di cui 41 deceduti. A Torre Annunziata sono 32 nuovi casi di contagio da Covid-19 registrati ieri. Al contempo si accertano anche 5 guarigioni. Sono 248 i cittadini attualmente positivi, 240 posti in isolamento domiciliare e 8 ricoverati. Sarà 1638 il numero delle persone che hanno contratto il coronavirus a Torre Annunziata dall'inizio dell'emergenza sanitaria, di cui 1.359 guarite e 31 decedute. Grazie.